buongiorno a tutti live pomeridiana come sempre inizio a parlare subito e parto un po prima di quello che sarebbe l'orario perché voglio che siamo tutti belli caldi e belli pronti per ascoltare questa macchina fotografica perché si presuppone che sia una macchina fotografica mai vista prima di sony come sempre chiedo ai primi collegati di voi di dirmi se mi vedete e se mi sentite bene perché insomma vogliamo seguire bene questa live e vedo che alcuni di voi sono già lì addirittura con mezz'ora d'anticipo vedo che c'è il buon vincenzo totaro buonasera c'è luca appena notato che siamo quasi a 60.000 si mancano pochissimi coinvolgete amici parenti arriviamo a 60.000 perché la strada verso i 100.000 è bella lunga e bella dura saluto antonio pizzi it will have one amazing specs that not been reported rumored esatto questa volta è qualcosa di strano perché effettivamente esattamente i rumor si anticipano sempre un po stavolta niente non è trafugato nulla ringrazio a simone brazzarotto good vibes speriamo saluto nicolime saluto a valerio rossetto e nicolime ci dice forte e chiaro e ragazzi prima di andare a vedere vi faccio vedere che la schermata è già pronta sto seguendo su youtube quello che il countdown ancora non è partito ma vado prima a fare un po di toto scommessa allora ditemi subito voi nei commenti quelli che secondo voi possono essere le possibilità io vi dico le mie tre ipotesi ve le sparo subito primissima ipotesi la medio formato di sony alla facciaccia di fujifil perché insomma il medio formato si c'è assalbad c'è face one ma è fujifil ma che sta martellando pesantemente il mercato portando i prezzi sempre più in basso e le caratteristiche sempre più in alto e forse sony avrebbe dire ma insomma lasciamo sola soletta fujifil ma fare tutte queste cose secondo me questo pervesse che sony non ha mai fatto una medio formato seconda ipotesi la modulare di sony avete presente la sigma con la sua fp sì avete presente la panasonic con adesso mi viene il nome queste macchinette che sono soltanto un cubetto ma poi intorno ci metti il monitor merino l'impugnatura la vai a regare come si dice nei termini da videomaking una macchina davvero modulare non con il classico design da macchina fotografica con il vero o finto pentaprisma sopra con il mirino al centro e vi dicendo qualcosa che sabbia modulare alla facciaccia appunto di sigma e panasonic eh secondo me questa potrebbe essere una possibilità terza e ultima ipotesi ragazzi siamo già in cento nonostante sia le 4 siete tutti qui a sapere cosa presenterà questa benedetta sony che ne ditti di una bella fotocamera con il sensore monocromatico eh sì in fondo la laica monocroma ma soltanto laica si mette a fare sensori monocromatici con un contrasto una nitidezza unica perché la matrice di Bayer quindi questo filtro qui sopra non c'è più quindi la luce arriva sparata dall'ottica sul sensore potrebbe anche essere questa una mia ipotesi quindi queste per me le tre ipotesi adesso vediamo se ci ho preso vi ripeto non ci sono rumors non ci sono anticipazione prima ipotesi medio formato di sony seconda ipotesi la modulare di sony terza ipotesi la fotocamera monocromatica in realtà ragazzi c'era per me anche una quarta ipotesi cioè vedere una nuova compatta full frame cosa che al momento ancora non se n'è parlato intanto allargo la schermata anzi no la mettiamo bene così paff bella grande di qua la vado a ingrandire così però mi fa il tutto schermo no 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 non mi piace così così la seguiamo comunque meglio ci sono anche le cose che scorrono intorno ma mi rimane più comoda per me che vedo le cose secondo voi basta con queste compatte vado a leggere manca un minuto e sapremo cosa caspita ha tenuto così nascosto ed è strano perché lo spionaggio industriale è un giochino i rumors servono per portare attenzione per alzare l'hype dicono gli americani come è la sony non ha voluto farlo sapere sono davvero curioso per un riccio dice stefano sanna la 7.4 no è troppo banale never seen mai vista prima e che mi fa una banalissima 7.4 no quella è un annuncio così leggero leggero jacopo grazie jacopo per l'aiuto mi stai dando l'xbox si tutto ok a parte il fatto del monitor 21 noni fighissimo l'avete visto anche su instagram che non viene gestito così bene per il resto va che una spettacolo qualcuno dice anche la 9.3 ma la 9.3 che è never seen è il solito seen mentre qualcuno dice se la nuova rx0 mi sparo anche qui sarebbe non never seen ragazzi rullo i tamburi 6 5 4 3 2 1 0 ed ecco che ci siamo cioè ci siamo per adesso è una schermata nera semplice semplice allora non posso mandarvi l'audio ragazzi perché avrei problemi inizia con delle foto foto di un teatro cercherò di commentare con voi quello che vediamo prima c'era un felino adesso foto sportive allora è una fotocamera qualcuno mi ha detto forse è un drone forse l'8k ma l'8k ragazzi cosa c'ha di never seen l'abbiamo già visto il sensore curvo potrebbe essere ma sarebbe strano il sensore curvo perché il sensore curvo intanto vado ad attivare i sottotitoli se ci sono il sensore curvo vorrebbe dire riprogettare tutte le ottiche ragazzi che riprogettare tutte le ottiche sarebbe molto strano troppa roba a fuoco allora finché è roba sul fuoco ragazzi tanto ci divertiamo sogniamo chiacchieriamo o in italiano crediamo nella creatività nell'infinito potenziale di tutti voi provo a doppiarlo semplicemente perché se tu hai potenziale ci riesci la nostra missione è supportare quella creatività per questo continuiamo a innovarci per ascoltare i nostri clienti non solo per soddisfare le aspettative ma per superarle costantemente ma la Sony se ci avesse un vocalista come me che ok la 9 ma questa è quella vecchia devozione alla velocità per catturare e me lo sono perso a7R4 la qualità delle immagini eccellente anche questa è una vecchia gallina la 7S3 a proiettare immagini oltre la portata dell'occhio umano mi raccomando pollicioni su cinema soddisfare rischiette professionali ottenendo inespressività cinematografica pollicioni su per la mia interpretazione come vocalista come lettore sottotitoli vogliamo continuare ad essere dei pionieri metterci alla prova per sostenere la tua incessante creatività non è preparata ragazzi sto leggendo quella creatività che ci consente di vedere un futuro entusiasmante brividi eh lavorare insieme per creare immagini oltre ogni immaginazione oggi vogliamo presentare un passo verso il nuovo futuro the one resolution speed risoluzione e velocità senza precedenti no risoluzione e velocità non ci importa più niente ci abbiamo già tutto 50 megapixel per 30 fotogrammi al secondo tutto qui autofocus esposizione 100 volte al secondo zero interruzioni no dai 240 frame per secondo sul mirino utile i8k no ma è banale sony è banale ls7.4 no dai ta 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 alfa one hanno cambiato il numero ma che mi dai di più su questa one che mi sembra una 7 ragazzi sbaglio o non sembra una 7 ah è one caspita alfa 1 aprirà la strada al futuro delle fotocamere presentando le stesse caratteristiche di quelle prima sbaglio sono troppo cattivo oggi ma dai nuova dimensione questo nuovo modello dimensionale eleva la creatività condensando tutte le tecnologie più avanzate di sony 50 megapixel e 30 frame al secondo la combinazione di alta risoluzione e velocità si è finalmente avverata cioè quante persone non riuscirono a fotografare senza 30 frame al secondo oggi sono sull'acido dai ragazzi non è una novità non è una novità ragazzi questo è risopostibile dal nuovo sensore d'immagine Exmor RS a strati e da Beons XR un processore d'immagine di nuova generazione che elabora date in risoluzione a velocità elevata si ho capito che non l'aveva fatto mai l'8K dove era però questo sensore d'immagine c'è in mossa fu il frame a strati retroilluminato già visto si ok normale pixel area dietro tutta la circuiteria ok quindi e offre la massima libertà fotografica permettendo di toccare gli scatti senza rinunciare a immagini di qualità ok ma ragazzi quanti di voi hanno bisogno di fotografare a 30 fotogrammi al secondo 15 stop di gamma dinamica fanno comodo sono utili ma anche questo non è questa grande novità ma loro non hanno detto novità in assoluto mai visto never seen bob last never seen il mio english non è so good ma never seen vuol dire mai visto la comunicazione di velocità e performance ad alta risoluzione cioè tu dici stai lì senti l'uscitore e gli prendi il sedere la foto dell'anno il sedere una modella che salta io una foto del genere l'ho fatta con 5 fotogrammi al secondo con la D700 ok cala il clu di autofocus esposizione automatica ah ragazzi sto scherzando ovviamente è una nuova macchina ma non c'è niente di nuovo ormai risoluzione velocità e infatti mi è calato l'entusiasmo è calato un po' a tutti carissima Daria Marfan ti sei perso poco abbiamo 50 mega a 30 fotogrammi al secondo quindi però siccome l'esposizione all'autofocus è 4 volte più veloce praticamente vedi lui becca sempre tutto bene ok questo sì l'elettronica tanto è quello che ci aiuta a non perdere mai lo scatto ma non mi cambia la vita zero blackout sì questo qui l'abbiamo già visto infatti lo dicono onestamente alfa 9 però allora a parte quelle rare nicchie di fotografi che hanno necessità dei 30 fotogrammi al secondo rarissime e perdere la visione del mirino quando c'era il reflex questi fotografi sportivi non portavano mai niente a casa un mirino più nitido sì questa mare è una cosa che fa piacere che più il mirino è nitido e più comunque la piacevolezza c'è per una risultazione da alta definizione è avanti la tecnologia oled con risoluzione più alta di categoria e il massimo ingrandimento sì 240 frame per secondo insomma probabilmente quando siamo già a 120 frame per secondo ma non la vedi la differenza un'altra nuova funzionalità è stata aggiunta e seguire facilmente i soggetti senza ritardi durante la panoramica velocità di elettorizzatore inferiori io vorrei adesso tra di voi c'è un appassionato di fotografie sportive per palo perri beh meglio non avere il blackout sì sì sono sempre miglioratori miglioratori miglioramenti ma non c'è questo never seen permette di migliorare gli attimi esprimendo ok ho perso lì i sottotitoli oltre le soluzioni a velocità alfa 1 migliore sotto molti punti di vista per offrire la migliore esperienza di scatto in qualsiasi situazione l'otturatore elettronico anti vibrazioni è silenzioso silent shooting ok perciò consente di scattare senza farsi notare e realizzare fotografie finora impensabili come azioni sportive decisive questo è un teleobiettivo sa quando gli ha fastidio un tatlank ok che normalmente non potrebbero essere immortalate sì quindi riescono a risolvere anche il global shutter sì ok anti distortion motion shutter elettronico quindi è più veloce e quindi evita i problemi di curvare gli oggetti non c'è uno scritto a che velocità di scatto c'ha ragione chemischock sì secondo me è una 9 con il doping e siamo in 200 ragazzi ben arrivati ok riesce a rilevare le luci a fluorescenza quindi lo sfarfallio e evitare che lo scatto vada nel momento in cui lo sfarfallio oscura la fotografia con il flash in passato possiede soltanto gli otturatori meccanici ora è compatibile anche con l'otturatore elettronico hanno reso la lettura dell'otturatore elettronico più veloce ok quindi anche con le luci flash da studio ci si lavora questo è utile comunque davvero è una macchina di nicchia cioè avete una 7.3 tenetevela stretta dual driving shutter reaching un quattrocentesimo secondo con il flash ok buono io sono la mia di 700 anche di 750 ho un 250 secondo non mi cambia la vita ok poi sicurizzazione che cambia in base alla dimensione dell'aria apre la strada nuove possibilità l'ho perso però ragazzi siete un po' delusi come me oppure qualcuno dice il prezzo eh Francesco questa sarà sempre la cosa perché secondo me è una 9 dopata come detto uno come che mi shock prima l'autofocus incomparabile va bene 759 punti ma se è incomparabile ma tanto quell'8% me lo vai a perdere va bene qualcuno mi deve spiegare perché visto che Sony si riproduce da solo i sensori quelle due fasce a destra e a sinistra le hanno saltate perché fallo un pochettino nuovo Bob Last 6.000 7.000 sì secondo me molto probabile Luigi De Luca alza ancora l'asticella allora i miei pronostici sulla fotocamera perso ok autofocus sull'occhio intanto voglio vedere chi becca il pronostico sul prezzo dai forza le toto scommesse sul prezzo becchiamo l'occhio dell'uccello che detto così sembra una di quelle frasi che YouTube dovrebbe andare a censurare certo perché quanti di noi fotografano un'aquila che va a pescare a pelo d'acqua dai ragazzi alzate le mani siamo in 192 quanti di noi 192 stanno andando a pescare è una macchina alta prestazione come decogli improvvisi i cambi di inquadratura ne voli ad alta velocità quindi riesce a riconoscere l'occhio sui animali anche l'orso che si dà una bella scrollatina all'acqua anche la volpe la bella modella anche meglio il soggetto rinusciuto viene inseguito messo a fuoco in precisione con un calcolo eseguito 120 volte al secondo l'abbiamo visto prima Giuseppe Rubini fa una bella domanda ma ste cose servono per fotografare servono per aiutare cioè il fotografo se è bravo comunque riesce a fotografare anche con una macchina vecchia di 10-20 anni tutta l'elettronica che nel corso degli ultimi anni stanno andando a farcire la fotocamera e ad aiutare sempre di più il lavoro per non perdere lo scatto cioè tanto specialmente se uno lo fa per lavoro è frustrante che devo fare la foto e la foto magari non viene perché magari è colpa delle mie capacità quindi vale il discorso che meno sei bravo e più una fotografia del genere è utile io che lavoravo anche in fotografia sportiva con la D700 insomma relativamente indispensabile ma sono tutte cose che aiutano quindi 759 punti ho messo a fuoco sull'occhio per gli uccelli gli animali gli esseri umani tracciamento a tempo reale e e l'8k l'abbiamo visto prima sì giustamente Giacomo Ferrari limited limited edition ho degli iscritti al mio canale con limited edition l'8k vogliamo non infilarci un bel l'8k dai ragazzi come si procede a fare una modalità cinema no così è meglio cavolo c'era pensare un secondino prima il sovracobbinamento in 8k sinonimo di risoluzione eccellente permette di dimostrare immagini con senso di profondità e realismo senza precedenti anche lì per dire sul mio canale youtube ne parlavo anche con Manuel Agostini o Gesualdo Ramonaco io continuo a fare le cose in full hd non in 4k 120p 10 bit 422 che tanta roba è slow motion 5x insomma è tanta roba ma non serve in questo momento stai guardando 720p se deve soltanto seguire l'argomento seguire il parlato tutta questa risoluzione non serve bellissima Max Pinter bellissima questa Pentax speriamo che la Pentax carissimo Mark si svegli Pentax deve far uscire qualcosa non sta facendo uscire assolutamente nulla alla fine potremmo mandare solo la macchina frafica ma dai guarda Frank che purtroppo è già così in molte situazioni sportive si mettono macchine su postazioni fisse controllate da remoto e basta una persona per controllare tutto 10 bit s-lock treco 15 più stop di gamma dinamica sì nulla da dire che il look è bello sarebbe questi effetti con e senza color però insomma c'è e qualcuno diceva è uscita la 9R3 effettivamente stabilizzazione a livello di sensore fino a 5,5 stop step stabilizzazione immagine attiva ok effettivamente se guardate il riquadro di destra insomma ce n'è ce n'è ce n'è sistemamente per dissipare Canon insegna come si citisce la temperatura carissima Canon e qui abbiamo 30 minuti nelle riprese che comunque non è tantissimo 4k 8k c'è la solita interfaccia digitale di Sony anche questa non è una novità ci hanno messo insieme 8k 50 megapixel e 30 frames per secondo ma cosa c'è di Neverseen ok recitatori esterni 16 bit tramite HDMI l'estetica quella di 1 a 7 e si poi vedi aggiungono sempre più tile sembra la vecchia interfaccia di il vecchio Windows quando c'erano le tile mattonelle ok c'è un mare di roba però dice Paolo Zuliani mi aspettavo la 7.4 questa è la 9.3 ragazzi tenetevi la 7.3 è una bomba di fotocamera non serve cambiare ogni fotocamera e Michele Sorrentino lo schermo non bascolabile assurdo forse quello è la cosa meno assurda e lo dico da fan per me lo schermo deve essere assolutamente così bascolabile ma è una macchina penso un po' più pensata dalla fotografia un pochino non meno pensata più la fotografia giustissimo Jacopo le mattonelle copiate da Apple no c'era un'altra Fede esatto potevano almeno puntare su un'estetica diversa giusto Fede sì questo ce lo potevano fare Dual CF Express e SD allora ragazzi guardate che sto muovendo il mouse questa è la cosa più bella ci hanno capito dalla A7S3 brava Sony qui parte l'applauso che gli slot di scheda di memoria devono essere una scelta dell'utente voglio utilizzare delle banalissime schifosissime schede SD non ce l'ho qui dentro bene altrimenti posso utilizzare l'XQD o le CF Express ma sempre due slot quindi o due SD o due CF Express o una e una che vuoi di oh ambito pro ragazzi vedete questa l'USB 3.2 che è una figata e la presa di rete questa è una macchina che quando finirà la pandemia quando torneremo a vedere le olimpiadi saranno quelle che noi non vedremo in mano ai fotografi ma appese su teste motorizzate in gira per i palazzetti cose del genere per fotografare in sicurezza da remoto e il fotografo in quelle situazioni ragazzi tocca dirlo scompare mi posso stringere un po' di più ma sì però un po' di delusione ragazzi c'è grande frankie con never seen si riferiva ai fotografi ok c'è il light jpeg giustamente che quando hai 50 megapixel ti rendi conto che jpeg è molto pensato nell'ambito professionale chi lavora nell'ambito professionale spesso tramite la porta di rete o tramite le wifi mandano le foto subito in redazione ma gli posso mandare un jpeg da 50 megapixel che cavolo ci fa la redazione che magari vanno sul web in 720 pixel al lato lungo no gli mandi il jpeg leggero c'è il raw compresso senza perdita formati half 10 bit mi sono perso i commenti Bob Luster c'è Luca che ti senti buoni quelli di sony e fatti mandare i prodotti a me rimandano sempre tardi quindi la vedrò molto tardi ok connessa la rete alfa aprirà la strada nuovi livelli di creatività si ok ha ridefinito la velocità delle fotocamere e ora sta procedendo alla fase successiva accogliendo la velocità delle tecnologie a 5G con xperia ok vabbè giustamente adesso voglio vedere se mi nominano la playstation insomma fanno discorso di sistema ok quindi vedete tramite lo smartphone andiamo in tethering questa è una cosa molto utile mi piacerebbe perché io con la mia Panasonic vado in tethering tramite wifi che ogni tanto mi molla farlo tramite cavetto sull'USB e non sarebbe male con l'USB-C la consegna rapida di immagini e video cosa fondamentale per chi lavora 4K monitoring live streaming quindi possiamo utilizzarla anche per fare come sto facendo io sto utilizzando la Canon EOS M50 con la sua app per fare da webcam comodissima ormai probabilmente l'unica cosa buona non mi vengono in mente altre della pandemia è quello che tutti hanno sviluppato dei software per gestire le fotocamere per fare per webcam 3Channel quante in un'unica macchina 8K e 5K3 si sono bevuti il cervello hanno voluto fare una macchina tutta muscoli che non porta niente di never seen la risoluzione i frame rate gli 8K non sono cose che cambiano la vita continueremo a metterci la prova per rinnovarci per cambiare il modo in cui i creativi di oggi vedono il mondo che avete cambiato ora vorremmo condividere alcuni lavori dei nostri partner ok ragazzi sorso d'acqua io sono deluso insomma allora e non hanno parlato del prezzo non hanno parlato del prezzo ragazzi sono i soldi nel conto rende che li acquisteranno ragazzi non so se hanno già fatto uscire tutto il prezzo il prezzo il prezzo il prezzo ragazzi c'è da andare a cercare il prezzo vediamo un attimo cambio qua se sulla pagina principale della Sony è già uscito lear more però niente mi rimanda ancora sulla pagina lì non hanno non sono ancora passati a parlare di quelli che sono i prezzi se qualcuno ha beccato il prezzo mi mandi il link che poi lo metto in onda ragazzi che figata è il doppio schermo faccio una piccola pausa tanto adesso parlano Maki Galimberti che parla di ritratto figata è questa senza fare troppi danni vedete il bello di avere due schermi ho lo schermo questo qua in cui riesco a vedere l'anteprima di quello che trasmetto quanti siete sintonizzati quelli che sono i vostri commenti e qua posso seguire quello che sto mandando a voi averci due schermi è una figata di cosa galattica ma io non avevo spazio per due schermi mi sono comprato un 21 noni quindi ottimo per lavorare allora free channel è semplice struncare queste caccole basta non comprarle le case si svegliano allora non voglio struncarle e non sono caccole tre channel no questa alfa 1 alfa 1 è effettivamente una bestia di macchina per chi ha bisogno il problema è il fatto che non c'è niente di nuovo e che è che effettivamente intanto torno un secondo effettivamente sul mio faccione che effettivamente ha bisogno di avere 50 megapixel sono pochi in 12 megapixel ragazzi ci si stampa un 30 per 45 centimetri quindi 50 megapixel che serve alcuni tipi di fotografia che ha bisogno di tagliare molto facciamo una foto di gruppo e poi facciamo dei ritratti ritagliando le singole persone solo questi hanno bisogno di 50 megapixel che ha bisogno di 30 fotogrammi per secondo alcune tipologie di fotografia sportiva ma anche fotografi che magari non hanno una certezza nello scatto perché conosco molti fotografi che fanno bordo pista e lavorano con raffiche molto basse che sono sicuri che quei 5 fotogrammi di un passaggio di un ciclista di un motociclista di una macchina Formula 1 gli bastano non vogliono avere troppi scatti per ogni singolo passaggio e lo stesso all'8k ma chi lavora in 8k uno youtuber per me il full hd è sufficiente si utilizza il 4k magari per fare degli effetti che a me non piacciono avvicinare allontanare l'inquadratura per fare quello e l'inquadratura si avvicina quindi tutto questo po' po' di roba è per utilizzo estremo e qualcuno ha detto giustamente per chi magari fa un utilizzo se vogliamo passivo la macchina messa in remoto controllata da remoto io so che quando apriamo il tasto di scatto la foto ce l'ho perché le esposive tra l'autofocus sono sempre precisi e puntuali infatti Luigi Luca dice ma lo scatto che hanno fatto loro con la farina tu l'hai fatto con Appendax Reflex ripeto sì ed è stato facile ma allora ci sono cose difficili uno schizzo di farina ma anche lanciato a secchiate è lento nel mirino anche un mirino soltanto 120 frame per secondo mentre la Sony arriva a 240 lo gestisco lo vedo non è che mi scompare e io lavoravo con i flash quindi scatto singolo con una Reflex con una Pentax io l'ho beccato Clara scusate cuoricino per le mie quote rosa siccome ho il 2,7% anzi Clara ti chiedo un favore se lo so che è anche imbarazzante chiederti da parte mia invita a tutte le tue amiche appassionate di fotografia di audio penso più fotografia visto se sei qui a iscriversi al mio canale cioè è imbarazzante cioè 2,7% di iscritti femminili si scherza grazie Clara spero che ti stai godendo questa live c'è Forever Break che sembra che ha trovato 15 a un prezzo allora disponibilità a marzo 6500 dollari torniamo qua vediamo se danno qualche informazione in più Sony continuerà a stare a fianco degli autori e sostenerli continueremo a rinnovarci per trasformare in realtà la tua creatività e la tua immaginazione sono in Italia quant'è che vi mandate questa Alfa 1 perché dovete sostenere i creativi ok il concept One Mount inisce le più avanzate cronocine di immagini nelle piattaforme dell'attacco e si ok fa vedere che comunque con un solo attacco c'è tutto il settore fotografia e tutto il settore cinema collegando senza problemi in avversate le gambe di corpi camera obiettivi del potenziale creativo illimitati Alfa si sta reggendo verso il futuro insomma però non con questa carissima mia Sony non hai presentato per adesso un niente di che ok per la disponibilità e informazioni sul prezzo si prega di contattare Sony nella tua regione allora torno un attimo sul mio faccione intanto Clara dice ok grazie Clara aiutatemi siamo troppi uomini qui poi sai quando siamo tutti uomini noiosi si parla sempre di cose da nerd da chic bisogna un po' arrotondare Gianluca però vedi che in America molti grossi youtuber usano red 8k black magic a 12k poi vanno a croppare quando gli servono zoom ma si allora a parte dipende quanto sia grande un youtuber io sono da solo e non ho un guadagno tale da poter pagare appunto una persona io spero di diventare un giorno come me contro te ma questa sarebbe una cavolata averci comunque uno staff è qualcuno che mi aiuta eviterei errori dire frasi sbagliate registrare col microfono spento non rendermi conto quando magari è finita la scheda e mi stava lampeggiando in basso io continuavo a parlare 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 quindi anche sul montaggio io cerchio di avere le clip giuste io la color l'ho fatta in macchina perché non voglio fare dopo la color correction è troppo lavoro sono da solo io da lavoro non faccio questo faccio altro nel tempo libero mi dedico a youtube quindi mi deve dare meno lavoro possibile oh c'è un grande fotografo mi dico petar ciao ciao Gianluca concordo pienamente con te ha specifiche utili solo per un decimillessimo dei fotografi eh già il lato video chi lavora 8k userà ben altre camere per esempio la red ragazzi un secondo è giusto youtube america non paga come youtube italia no mi sa che paga di più perché ci sono molte più aziende che investono su google rispetto che in italia in italia certe volte ho scritto alcune aziende io ho detto io sono uno youtuber ho 50.000 iscritti parliamo mare di parecchi mesi fa allora io pubblico solo riviste però comunque la rivista è la rivista che con tutto il rispetto fa numeri molto più bassi quindi è difficile in italia farsi considerare e quindi anche gli investimenti cioè io investo spendo parecchio dietro a questa passione di raccontare la mia passione bel giro di parole però non più di tanto perché ragazzi per adesso è davvero uno sfizio che dice se un giorno dovessi diventare come i me contro te vi prego ci dite i me contro te ormai sono un prodotto commerciale siccome le mie figlie mi piacciono li devo subire chi di voi è un genitore alza il detino voi avete visto qualche volta i me contro te però loro fanno un prodotto che fa migliaia di euro al giorno perché ogni loro puntata è farcita di libri dolciumi abbigliamento product placement sono continui spot ci hanno un indotto incredibile fanno milioni di visualizzazioni continuamente non c'entra niente ovviamente con il mio format che è un format di informazione barra intrattenimento ma soprattutto informazione e io sono una nicchia cioè quante persone sono interessate alla fotografia poche quante persone interessate all'audio poche quante persone di queste poi hanno meno di dieci anni ed è questo importante perché il bambino ti prende il cellulare e si mette a guardare youtube per un'ora di seguito e si vede dieci video quindi il grosso delle visualizzazioni di youtube italia ragazzi sono i bambini che si guardano questi video family fatti bene anche pensati bene e sono quelli che spaccano allora esatto in america l'ads vengono parlate circa quattro volte l'italia fare lo youtuber in italia in america molto di più si parla più o meno di due dollari ogni mille views da noi siamo molto di più molto di più di quello grosso modo io mediamente mi aggiro sui quattro dollari ogni mille views quindi sembrerebbe di più in italia ma è molto di più youtube italia è diventato youtube disney attenzione raccontare in viaggio siamo parlati da parlare di sony a parlare di youtube è che in realtà in tutto il mondo i bambini sono quelli che sfruttano di più i supporti elettronici e poi è un crescere perché fino a dieci anni Mario guardano i me contro te poi man mano salgono esistono vari youtuber per ogni fascia d'età che fanno un intrattenimento Tommaso appunto dimmi te tu che youtuber guardi per intrattenimento però forse ai 14 anni è già la fascia che sali inizi a guardare cose più di informazione quindi è uno step ma diciamo dai dai 5 ai 10 dai 10 ai 15 ci sono due fasce ben farcite di contenuti pensati appositamente per loro quindi è un bel mondo Angelo Iato non so di stare la trostetta non poteva permettersi di rimanere indietro rispetto alla correnza ma che indietro indietro per l'8k cioè secondo me la Sony non aveva minimamente paura dell'R5 su dice aveva paura dell'R5 no attualmente Sony e Fujifilm ricordatevi che presto tornerò a parlare di questa coppietta avete visto il Botch Awards chi ha vinto tutto sul Botch Awards Sony e Fujifilm quindi Sony e Fujifilm stanno comunque belle sono loro che stanno attualmente hanno il duopolio del mercato della fotografia ma poi non solo del mercato della passione della fotografia se vedo il gesto sul cuore ok i fotografi appassionati seguono Sony e Fujifilm quindi Sony non aveva paura non c'era nessun inseguimento lui c'è di Luca c'è Luca tu come porti su YouTube ciò che ami me contro te solo marketing studiare a tavolino come macchina da soldi sì ma io spesso dico a mia figlia Giorgia che la vedete nei miei video è sveglissima Giorgia ma Giorgia a te non dà fastidio il fatto che stanno piazzando stanno vendendo sono ovviamente promozioni commerciali ogni singolo episodio di me contro te Giorgia dice sì mi ha fastidio però mi divertono e tanto è quello cioè io posso dire la cosa più intelligente posso insegnarvi a diventare dei grandi fotografi parlarvi parlarvi delle cose più sfiziose del mondo dell'audio ma se voi non vi state divertendo che fate cambiate canale non vedete tutto il video il mio video è troppo lungo se vuole il giorno dovesse essere davvero bravo dovesse essere bravo a parlare di quello che mi piace tanto solo di quello parlerò se il giorno in cui smetterò di divertirmi io chiudo il canale ma cercando di divertire non solo me stesso ma soprattutto voi è questa la cosa difficile che il bravo youtuber dovrebbe fare Francesco Nicolotti sorso d'acqua l'unica cosa che manca è in casa Sony e le vede in mezzo tra A7III e A7SIII e c'è già la A7C punto la Lumix S5 carissima Francesco è una macchina molto molto ben pensata tipo la A7C non c'è il secondo slot di scheda di memoria ma dipende a chi serve questo secondo slot di scheda di memoria la S5 ce l'ha ma comunque la A7C è un'ottima macchina secondo me venduta con l'ottica sbagliata io ho criticato quella contraddizione di metterci di serie quell'ottica che per me evitatela ma ci mettete sopra una qualsiasi altra ottica di Sony e ce ne stanno tanti ed è tutto un altro discorso Valerio Rossetto penso usciranno delle reference se questo 2021 tipo Nikon di 7008 non lo so è difficile fare pronostici io tre anni fa parlavo secondo me della fine della reflex entro dieci anni secondo me me l'ho dato un po' troppo lungo il termine ti dico Valerio se un esce se uscirà qualche reflex quest'anno per me saranno le ultime nel 2022 non vedremo più reflex in pratica 7.4 quella che aspettiamo tutti ma secondo me uscirà la 7.4 Jacopo sicuro 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 la 7c si ferma al 4k 25 femmili secondo ma allora ragazzi se puntate il video è la 7.3 la 7s3 quella è la macchina da puntare il video che ne pensi l'attuale gamma di Nikon che devono gestire meglio i prezzi se no Nikon adesso sta messa bene io criticai molto nel 2000 era sempre 18 il lancio della serie Z perché era un lancio prematuro ormai nel 2021 a distanza di tre anni la gamma Z è matura e i prezzi no cioè non possono vendere le nuove ottiche che sono più grandi e più costose delle vecchie ottiche dovrebbero alleggerire Lorenzo P che ci tiene nascosto Sony nulla assolutamente nulla allora qui c'è un messaggio bello intanto io voglio un attimo cercare di quasi trovo qualche notizia su sul prezzo di lancio se mi hanno mandato i comunicati quelli di Sony vediamo un po' è una sezione approfondimento ok approfondimento domani ciao allora il prezzo ce l'hanno messo sto guardando il comunicato ok c'è ve lo faccio vedere ce l'abbiamo dopo raccontare il viaggio lascio il tuo commento perché è importante e il prezzo ragazzi wow no ho sbagliato lo zoom qua volevo zoomare lo mando ancora più grande 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 mi è scivolato ragazzi l'ho visto eccolo qua prezzo e disponibilità ce l'abbiamo l'alpha 1 full frame interculture lens camera will be available in europe in marzo perché sto leggendo inglese in marzo 2021 per approssimamente 7300 euro che dolorino non so se c'è un dolorino da quella parte lì dietro vicino dove si infila il portafoglio un pochettino più al centro e verso l'interno ecco allora raccontare in viaggio torno su di te bellissimo sì poi sei sempre tu ok sono povero però torno su di te e raccontare in viaggio perché hai detto una cosa che secondo me è duqueragionale ho preso la Canon 90D per un cavolo allora ragazzi le reflex sono ancora spero che per un cavolo dire spendendo poco o sei dispiaciuto ti rispondo in tutti i tuoi sensi allora se tu dici ho speso poco bene mai come adesso comprarsi una reflex una Canon 6D Mark II perché no una bella Nikon D850 perché no non è non sono macchine da buttare via non sono macchine che adesso vai a fare foto abbiamo visto nelle presentazioni di Sony non ci fai fotografia ciclistica non ci fai foto di sport invernali non ci fai foto di un orso che si sgrulla via l'acqua dal pelo no ce le fai tranquillamente benissimo con un mare di ottiche che per assurdo diciamo prima su Nikon sono più compatte e costano di meno delle controparti per mirrorless native per mirrorless quindi un'ottima cosa se invece dici che hai speso i soldi male no stesso discorso io ho utilizzato la Nikon D700 dal 2008 l'anno in cui l'ho comprata fino al 2019 11 anni tu vuole comprare la 90D adesso quindi in teoria fino al 2032 stai a posto ragazzi non vi fissate con l'idea di cambiare una macchina all'anno o comprare la passata generazione vuol dire buttarlo via non solo come le console che tu dici oh compro la Playstation 4 adesso è appena uscita la PS5 alla trovare non ha senso che poi i giochi usciranno soltanto per la nuova generazione sono strumenti per fare foto e la foto la fate voi come l'Alfa 1 che fa tutto lei quindi una macchina va bene tranquillamente per 10 anni 12 14 15 si cambia la macchina quando c'è una nuova esigenza io sono passato dalla D700 alla D750 macchina anch'essa vecchia perché è del 2014 quindi ho comprato due anni fa una macchina già vecchia di 5 anni perché volevo le funzioni video su una Nikon spendendo poco io l'ho pagata sui 800 euro una cosa del genere c'è un orologio che mi sta saltellando ok richiamo tra un attimo ok bellissima so di non doverla spedire su Marte torno su mia faccione ragazzi ultime due cose poi devo richiamare una persona che ho visto che era una chiamata anche importante allora salvo LG ma che dice che le ottiche per reflex sono più compatte dei mirrorless vatti a vedere la mia prova della Z5 della Nikon che c'era il 20 mm e il 20 mm 1.8 se non ricordo male per mirrorless è più grosso più lungo in particolare di quello per reflex perché sembra questa è la mia sensazione quindi è liberissimo di essere smentito dagli ingegneri di Nikon che invece di progettare l'ottica semplicemente hanno allungato la baionetta come se avessero interrato l'adattatore nel corpo quindi compro le mirrorless avrai ottiche più compatte ragazzi è una bugia le mirrorless erano più compatte e più leggere in maniera sensibile quando era appunto le micro 4 terzi perché se il sensore guardate il carino il fisheye se il sensore è più piccolo le ottiche possono essere più piccole ma se tu prendi un sensore full frame le ottiche non possono essere più piccole perché ci vuole quel cristallo ottico per portare l'immagine su un sensore di quelle dimensioni sono leggi dell'ottica quindi non gli puoi andare contro a quelle leggi e soprattutto la Nikon le fa pagare di più Mattia Franconi a quelle cifre mi rienterei su una vera Big Map X la nuova GFX100S si i rumori sono in fibrillazione ragazzi aspettate domani che vedremo cosa è confermato e cosa no priorità alle ottiche mi raccomando andatevi a vedere il mio video è uscito la settimana scorsa quei 5 consigli per scegliere l'attrezzatura fotografia in cui vi ricordo sono fondamentali le ottiche la foto non lo fa l'Alfa 1 si può avere i 50 megapixel la raffica da 30 fotogrammi al secondo può avere l'esposimetro dato focus che leggono la scena 120 volte al secondo può avere l'8K ma se davanti ci avete messo un'ottica 5.6 la foto non avrà un così bello stacco di piani non avrà una resa così pastosa metteteci davanti i signori ottiche e anche un'Alfa 7 prima serie la prima vi fa delle foto da urlo e c'è un mio amico non so se mai sta guardando ciao Sandro se sei lì Sandro Baikonur che è un fotografo di Glamour quindi fotografa bellissime donne in un modo molto bello affascinante lui utilizza una A72 e se guardate le sue foto che gli dite ma è sbagliato nulla è tutto a posto è bello il soggetto sceglie bellissime modelle è bella la luce che tanto se voi lavorate con luce controllata è la luce che vi fa il 50% della foto e l'altro il 50% il 40% lo fa l'ottica il sensore fa il 10% perché è alla fine del percorso è la luce che colpisce il soggetto torna verso l'ottica l'ottica prende la luce e la porta sul sensore quindi il sensore è l'ultimo sta lì in fondo quindi se prima è successo un bordello verrà comunque una foto di cacca ok canon ha fatto un miracolo col 35.8 il 35 rf quindi per mirrorless io l'ho detto l'rp quella più economica questi giorni è sceso sull'orlo di 1000 euro seguite il mio canale telegram lo trovate qui sotto in descrizione del mio canale telegram è sceso sotto la vicino era 1000 qualcosa comunque una rp che è la piccola mirrorless full frame di canon col 35.8 macro di canon vi trovate una combo che è uno spettacolo assoluto allora levo il prezzo torno su di me ragazzi ultime chiacchierate assiero già su di me Bob Last secondo me è un prezzo giusto sì per le caratteristiche sì altrimenti andrebbe a fare concorrenza appunto alla 7 S3 e alla 7 normale Sony se lo può permettere un prezzo così è nella giusta fascia di prezzo rispetto alla categoria questa è una macchina dedicata a case di produzione o grandi compagnie analisi giustissima che appuntamento c'è domani ragazzi mi raccomando iscritti campanellina gonfiatemi di mi piace specialmente per la mia performance come speaker e vocalista nell'inizio di questo video e domani saprete bene ovvio che sono le ottiche a fare la differenza da sempre da sempre il grande successo di like nel corso degli anni è dovuto ai corpi macchina costosissimi no alle ottiche su cui utilizzare quei corpi macchina laica e laica peter peter scusa mi sbaglio spesso la pronuncia 73001 spenderei 1.973 e 5.4 in lenti e formazione soldi decisamente spesi meglio bravissimo Jacopo che mi spara cuoricini cuoricini anche a me ragazzi siamo vicinissimi ai 60.000 e siamo comunque stati spesso sopra i 200 in questa live adesso vado solo a commenti perché mai abbiamo finito di vedere tutto quello che c'è da dire se adatti le ottiche per dire aumentano di dimensioni ma se progettate apposta sono spesso più compatte si compatte ma poco cioè risparmi due dita risparmi 50 grammi non riesce a fare questi grandi miracoli passando da DSLR mirrorless a parità di sensore se volete corpi più leggeri non prendete il full frame prendete la PSC le volete ancora più leggeri prendete il micro 4 terzi esistono queste tre categorie queste tre dimensioni di superficie di sensore proprio per avere il più compatto più leggero non c'entra un cavolo mirrorless non mirrorless anche poi tra qualche anno le reflex non esisteranno più quindi come sceglieremo la macchina compatta full frame la PSC micro 4 terzi in base alla dimensione del sensore se volete c'è anche il sensore da un pollice vi fate un RX100 mi pare o la 10 no la 100 quella piccolina piccolina vi scompare su un taschino restando in casa Sony Valerio non hai visto il mio video appunto su come scegliere attrezzature in cui dico che non esiste il meglio esiste quello che è più adatto alle nostre esigenze e anche seguiamo la nostra economia andate nei negozi entrate nel mio video ci ho messo tre negozi uno al nord uno al centro uno al sud non so se li avete conosciuti ma ve lo dico uno è la new camera uno è foto di Milano foto MG di Cittano Marche e poi il mitico foto EMA di Napoli dicono che la parola non si è in Napoli foto EMA andate nei negozi toccate le macchine con mano quelli che dicono ah compri le fotocamere su Amazon costano meno è vero non mi nascondete un dito trovate qui sotto il link alle fotocamere consigliate il primo link qui sotto quello che c'è scritto la mia attrezzatura il mio impianto Wi-Fi c'è anche una sezione dedicata alle fotocamere consigliate sul mio canale Telegram vi segnalo le offerte come quella è stata per la Canon EOS RP però sul negozio costa quel pizzico di più ma cosa vi dà di più? toccare con mano quindi mi portate a casa una macchina che poi la prendete e dite ma io sto naso dove cavolo lo vado a infilare invece è lì la potete prendere con mano potete sentire come è bilanciata mi serve l'impugnatura verticale non mi serve quindi vi aiuta a gestirvi mi state gonfiando di commenti ragazzi terabit vorrei solamente una Sony 64 aggiornata con un mirino decente un sensore nuovo con un po' meno rolling shutter utilizzate l'otturatore a quello meccanico il rolling shutter è una grandissima lottura di scatole ma io quando fotografavo da professionista con la Minolta 7D aveva l'otturatore che faceva un statlunkte una botta fenomenale mi è successo se l'ammetto in teatro di avere qualche sguardaccio dal direttore perché effettivamente momento di silenzio concentrazione il maestro bello fermo lì con la vorrei averci una bacchetta c'ho un filetto di plastica si vede lì pronto con la bacchetta a dare il via all'attacco ai musicisti e io ah bel gesto statlunkte e lui mi aveva uno sguardaccio sì però sono anche lì rare le occasioni in cui avere l'otturatore elettronico l'otturatore silenzioso serve l'occhio del fotografo conta anche più dell'ottica ma lì è ancora prima pensiamo al percorso innanzitutto tu devi scegliere dove puntare la macchina forafrica quindi c'è prima il tuo occhio poi la luce poi l'ottica e poi il sensore stiamo facendo molto se il nuovo ward chi è ward? ammetto la mia ignoranza quota Peter è come non quotare Peter ho acquistato 20 giorni fa una 7.3 tienitela per 10 anni so proprio a sinistra da 12 anni e da 22 uso Nikon a logica e poi DSLR vai tranquillo che sarà una macchina che ti accompagnerà per molto molto tempo con grande soddisfazione ok per le ottiche ma il corpo macchina ha la sua valenza in alcuni settori certo se ti serve di fare di avere autofocus in seguimento certo se devi fotografare in maniera ad avere tantissimi scatti e abbiamo visto i 30 forami al secondo di questa alfa 1 sì ma sono occasioni effettivamente rare quindi sono pochi diceva prima Peter che più volte citate che 1 su 10.000 gli servono caratteristiche del genere Gianluca tranquillo tra poco Tofia e Giorgio verranno a darti una mano anzi se le due aiutano lei ti assicuro Michele che ho pensato a sapere un canale e farlo gestire alle mie bimbe perché comunque loro cosa fanno spesso come gioco di ruolo sai dei bambini imitano quello che fanno i grandi e si mettono a fare video prendono il tablet e si registrano a vicenda facendo i video ed è bellissimo vedere come imitano il modo di parlare degli youtuber non del loro papà perché faccio cose noiose ma degli youtuber appunto tipo i me contro te quindi ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video sì loro fanno così io sono lui e lei è Safi basta Gianluca certamente sono le ottiche sulla mia 6.4 il Sigma 30 f1.4 16 f1.4 fanno miracoli come ho detto nel mio video andate a ricercare nel canale quello su come scegliere l'attrezzatura allora minimo io direi ottiche f4 quello è il minimo non si scende sotto f4 cioè io compro un off frame e ci metto un'ottica 5.6 è il classico battuto di farsi una ferrari e poi ci metto le gomme da panda no ci metti delle gomme adeguate lo stesso ti compri un off frame non ci vai a buttare un'ottica che sia meno di f4 quindi almeno f4 decisamente meglio inizia a prendere senso un 2.8 iniziamo ad essere seri con le ottiche 1.4 che le ottiche 1.4 ragazzi costano poco hanno fatto l'1.4 proprio per avere ottiche non troppo pesanti non troppo impegnative dal punto di vista economico quindi comprate questi benedetti 1.8 1.4 per chi se lo può permettere 1.2 dove osano praticamente tipo canon e c'è anche lo 0.95 di Nikon che è assolutamente inutile perché l'hanno fatto mano al focus quello pure è stato una delle grandi cavolate secondo me di Nikon ma Nikon farà una vera ammiraglia mirrorless secondo me sì è inevitabile la D6 per me è stata l'ultima miraglia reflex è finita giusto beh non sono d'accordo di queste cose comunque salvo allora ricordatevi io sono una persona non sono quello che è detta legge del mercato della fotografia no io vi racconto la mia opinione sulla mia passione era lo slogan all'inizio del mio canale adesso è foto audio secondo me poi la stessa cosa all'inizio era proprio le mie opinioni sulle mie passioni anche un po' un mezzo rap quindi è giusto non dovete essere tutti d'accordo con me se no che noia che barba giustamente Bob Last questa macchina è più compatta del Blackmagic 2GK Red 8K si sono colpito nel segno si in quei settori in cui vuoi avere altre prestazioni però certo 30 minuti di prestazione continua massima ragazzi non è tutto questo cranché mamma mia quanti messaggi ragazzi io continuo per altri arrivo a un'ora altri 5 minuti e poi chiudo quindi ultimi messaggi perché al solito la gula me la sento in volo con giaggio sono 9 iscritti grazie tutti voi arriviamo rapidamente ai 60.000 poi lavoriamo sui 70 80 90 100 secondo il mio stimo arriverò ai 100.000 iscritti intorno al 2023 quindi ci si arriva con calma mi piace un sacco come spiega e come ragioni mi sono da poco appassionato di fotografia ho preso la compatta per imparare a vedere se la passione continua fatti avere anche tu il mio video in cui consiglio appunto come scelga l'attrezzatura avrei preso una reflex quelle da massimo 400 euro una canon mi ricordo 4000D una cosa del genere anche usata i primi passi secondo me è ancora bene farlo con la reflex perché costano poco si trovano facilmente nell'usato si rivendono anche facilmente sull'usato per me la cosa migliore Jacopo più che altro per me a parità di dimensione di ottica questa riprogettata per mirrorless è una qualità migliore canon RF allora si è progettata bene la baionetta ma Nikon aveva io l'avevo criticato fortemente Nikon perché all'inizio ho detto noi facciamo una baionetta più larga giusto tiraggio il tiraggio della distanza tra la parte finale quindi l'attacco della baionetta è quello che il sensore che qui sarà un centimetro non di più ridotto perché più l'ultima lente proietta la luce vicino al sensore più è largo più permette di gestire questa proiezione di luce quindi tutto bene quindi ottimo le baionette che hanno progettato proposto sia Nikon sia Canon e Sony da parecchio tempo prima ma ci devono stare ottiche di qualità per portare la luce su questa baionetta larga su questo tiraggio ridotto questo serve una compagnia professionale non comperebbe mai una Sony a 7.3 perché che intendi poi per compagnia cioè un fotografico professionista è certo che si compone una 7.3 ma tranquillamente foto M a Napoli sì qualche volta mi perdo i posti Angelo Verde se una boccia in un'angola fix di architettura interna usata con 200 euro di budget allora vai su un negozio di fotografia e buono per architettura 200 euro di budget te la vedo dura ma vai su un buon negozio di fotografia e fatti consigliare ragazzi non so i listini a memoria anche questo diciamo allora è giusto che non abbiate opinioni concordanti con le mie altrimenti sarebbe noioso e considerate anche che è impossibile che io sappia tutto cioè tutte le schede a memoria tutti i listini a memoria si commenta infatti leggendo insieme Valerio quale obiettivo consigli di affiancare alla Canon SRP che non ti costi troppo per iniziare che sia uno zoom il 24105 f4 non costa pochino purtroppo terabit in video la vedura usare la cortina fisica statal anche te allora in video no però in video se tu lavori non lo so io lavoro in 25 25p quindi lavoro con un cinquantesimo di secondo e quindi c'è quel motion blur quel leggero mosso che rende la ripresa più naturale e secondo me basta bene averci un po' non le shutter che se c'è non lo vedi in realtà non vedi l'oggetto curvo la curvatura delle linee ecco questo dovreste vederla da vicino se si curva nella foto è perché si sta fotografando ha un soggetto in rapido movimento ma nella foto nel video si nota pochissimo proprio se vado a fare un rallenty allora sul rallenty già un po' si ma poco dai nikon ovviamente per la domanda di grandangolo ti dicevo circa su gnozio ah luca guarda il doppiatore si può essere se ci avessi un futuro come il doppiatore ragazzi accetto ingaggi luca guarda il doppiatore il rastro del crono il gallatore bella voce quindi quelle parti insomma in cui tu animi gli spiriti giusto ma io poi in fondo dico il pubblico femminile non sono un bell'uomo però ho una bella mimica ho una bella voce appunto abbiamo finito le cose buone di me in Toscana consiglio ho lo store sono professionali Napoli vente foto ma in tutta Italia ragazzi ci sono negozi piccoli e grandi che vi aspettano per andare lì e toccare con mano la fotocamera e comprarla lì non fate come alcuni furbetti e molto triste che prendono vanno nel negozio succede anche nel mondo dell'audio vanno nel negozio e si ascoltano le casse ah belle queste qui belle belle me le fai sentire me le fai sentire con l'amplificatore va bene ci penso poi va a casa va su Amazon le compra risparmia 50 euro Mario ed è tutto contento ma quei 50 euro è un 50 euro che spettavano che spettavano di diritto al negoziante che ha dedicato un locale con affitto riscaldamento luce acqua tasse e il prodotto che gli ha fatto provare quello sarà un prodotto che poi lui venderà sotto prezzo perché è ex demo quindi ragazzi andate nei negozi e provatele le cose oppure comprate online e vi accollate il rischio inutile che dite è meglio è meglio è meglio me la compro mi accollo il rischio Amazon vi concede di fare il reso se vi cade per terra quando siete ancora indecisi sono cavolacci vostri ok grande Gianluca sempre saggio e informato saggio sì informato anche lì qualche volta rispondo ultimamente tantissime a messaggi con mi spiace perché mi scrivete sempre di più e dite ah conosci le soundbar no conosci l'antiater no conosci questa macchina forafrica ragazzi non so tutto sono un essere umano normalissimo ma buonasera David Leon è scritto mio di lunga data e siamo in chiusura e i messaggi ragazzi sto indietro quindi non so cos'era Michele Sorrentino sta sparando risate però stiamo sfalzati di circa 8 minuti sto leggendo i messaggi di 8 minuti fa maronna ragazzi mai avuti con 70 gente di pomeriggio se vedete il mio pubblico è sempre notturno di notturno vado a trecomandante sui 300 in live ma 178 in live di pomeriggio Bob Laster c'è Luca che ne pensi la Sony a 9 che vorrei provarla non sono mai riuscito a provarla eh sì è grande macchina tutti ne hanno parlato bene a 1 o a 9 vorrei provarle entrambe sia a 1 che a 9 i miei contrattesi sono delle ragioni per cui stiamo evitando le invasioni aliene ricordate ragazzi che c'è questo cliché in molti film di fantascienza che gli alieni vedono come noi viviamo e allora decidono che sì è il momento di andare a invadere la terra perché insomma se vivono così siamo proprio dei deficienti incapaci di difenderci 165528 dice Luice Luca 28 bravo bravo 28 è una cantilena su Photo for You il forum in cui sono letteralmente cresciuto Photo for You il forum in cui sono cresciuto c'era uno che metteva come sottotitolo quando metteva i post dice so contare fino a 28 non oltre che comunque è una fotografia ragazzi se investiamo in attrezzatura ottiche almeno 28 vi perdono l'F4 ma non si va oltre Terabit Tech comunque notato che in generale con l'esclusione di Fuji i propri motivi di ottiche interessanti al PSC non ne stanno uscendo moltissime mancano i zoom Sigma 1835 F8 aggiornato no ma c'è già quello vecchio e va benissimo non l'ho provato ma chi ce l'ha avuto per la PSC il 1835 è una bomba Paolo Roncalli scusa c'è Luca ma chi fa riprese senza staccare da oltre 30 minuti chi fa una partita di calcio non seguo il calcio sbaglio sono 45 minuti ogni tempo la telecamera fissa professionale serve fa uno spettacolo teatrale che è due ore sempre attaccato un convegno che magari dura quattro ore mattina o quattro ore pomeriggio si fanno delle pause chi lavora fa delle pause però Mario dice una camera messa in una posizione lontana io la faccio partire quando inizia il convegno con una scheda adeguata con un registratore esterno adeguato e lo riprendo alla fine in ambito professionale serve andare oltre 30 minuti in ambito armatoriale va bene ma questa a uno stiamo parlando di top 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 assolutamente top stefano degni ho una camera un FTBQL con 50-100 qualcuno è interessato ad acquistarla appare a nuovo in standardità vendere l'usato analogico non è facile in bocca al lupo stefano ci farai qualcosina ma non molto salvo LG bravo questo fa piacere che apprezzi chi non la vede come te ma è normale allora io non ho fatto mai il hating dicono quello A parlare male il dissing parlare male di quello che la pensa così no siamo anche in tanti qui su YouTube a parlare di fotografia c'è il mitico Michael Bertolasi l'esperiente di fotografia c'è Daniel Maeselli c'è Fabio Porta c'è Simone Tarca abbiamo opinioni anche diverse tra di noi ed è giustissimo che sia così ciao Marco macadocco ricordati che te dobbiamo fare una cosa scegli un mercoledì però dimmelo prima non domani domani no ormai è andata quindi quando vuoi facciamo quella cosa insieme ma devi avvisarmi una settimana prima ok grande Davide disse te se ho te quale è la migliore ottica fissa non troppo costosa perché ho 13 anni consiglio di prima Davide grande a 13 anni già appassionato di fotografia vai sul negozio di fotografia e fatti consigliare sono tutte buone le ottiche evita quelle 5 e 6 prendi se proprio stai messo male quella f4 se si scopri ma 2 8 un 8 se puoi permettetelo se passate qui da me a Terni ovviamente a Foto Terni ragazzi ah ma Jacopo quindi scusa Jacopo sbaglio ci siamo conosciuti per Xbox o mi confondo con altro Jacopo comunque sì tranquillamente sfruttate anche il mio canale per farvi conoscere Barbara uuuu i cuoricini sapete per il pubblico femminile quel mio piccolo 2,7% arrivato ora Barbara appena finita la live andrà automaticamente online dopo circa 5-10 minuti torna all'inizio ha presentato questa A1 che ci hanno messo una foto aspetta per cercare di farti vedere una foto poi infatti dovrò anche rifare la copertina te la faccio vedere qui vediamo se riesco a fare questa cosa qui al volo eccola lei ha presentato questa Sony Alpha A1 che è identica a una A7 come estetica ma 50 megapixel quindi risoluzione a bomba 30 fotogrammi al secondo esposimetro e autofocus che leggono la schiena 120 volte al secondo e video che si spinge insieme all'8K davvero tanta tanta roba siamo in live da un'ora e sette io non ne posso più e sulla mia quota rosa su Barbara Ando ringrazio a tutti voi state iscritti e campanellina e pollice su pollice su per la voce insomma da decimo meridio l'avete capito perché domani arriva un altro video che insomma questo 2021 parte col botto più secondo me per quello che vi mostrerò domani e quello di oggi secondo me è un po' questo never seen insomma abbiamo visto le solite cose aumentare prestazioni aumentare prestazioni per me ragazzi non è un qualcosa di nuovo è un qualcosa di già visto trito e retrito come sempre i commenti qui sotto sono a vostra piena disposizione per raccontarmi anche la vostra opinione su quello che vi eravate aspettati mi aspettavo la medio formato niente quella modulare niente quella bianconiera niente quindi ditemi nei commenti cosa vi sareste aspettati e cosa ne pensate di questa fotocamera che costa un botto l'abbiamo vista 7300 euro e secondo me è rivolta davvero ai super professionisti per i professionisti umani e per l'amatore sono davvero una macchina che interesserà a pochi di voi ciao a tutti ragazzi e appunto ci vediamo domani ciao